ciao a tutte ragazze e ragazze bentornate sul mio canale oggi non si parlerà di unghie si parlerà di beauty se avete visto attentamente il titolo il nome del mio canale e o se non l'avete visto non ci avete fatto caso ve lo dico io ho aggiunto una piccola parolina al titolo del mio canale ossia si chiamerà d'ora in poi java nails and beauty questo perché perché mi sono resa conto che da ormai un anno un anno e mezzo e mi sono appassionata sempre di più al discorso beauty e skin care e sempre per fatto che insomma io comunque ho 52 anni cerco di performare al meglio la mia pelle e di rendere al meglio il mio aspetto e quindi ho cominciato ad intrigarmi un pochino su vari video che ho visto su youtube sulle varie makeup artist ho cominciato a seguire molto molti makeup artist anche molto famosi per vedere quali sono i prodotti che possono essere migliori per la mia pelle e per avere un pochino di scoop per sapere esattamente come sfumare gli ombretti quali sono praticamente quali sono i fondotinta migliori e così via però mi sono resa conto anche di una cosa che tutte queste persone che io seguo su youtube hanno mediamente 30 25 35 anni raramente arrivano a 40 anni e quindi molto spesso io ho preso delle cantonate ossia prodotti che loro consigliavano come estremamente performanti estremamente fantastici sulla pelle eccetera sulla mia non performavano per niente o perlomeno rendevano assolutamente una una reazione comunque un effetto completamente diverso rispetto a quello che loro dicevano nei video e quindi ho detto ma perché a questo punto ho visto facendo frutto della mia esperienza e perché ho provato tanti prodotti sulla mia pelle ho provato tante cose tanti fondotinta tante tanti blush tanti illuminanti tanti ombretti quindi ho una me o una makeup collection che sta cominciando ad essere abbastanza capiente abbastanza corposa e ho detto ma perché non inserire nel mio canale anche se io non sono una makeup artist e quindi in modo assolutamente modesto assolutamente umile io non voglio insegnare niente a nessuno non voglio dare consigli voglio solo dare consigli e a seconda di quello dell'esperienza che ho avuto io perché non attraverso mio canale dare consigli a persone che hanno anche la mia età perché non solo persone di 30 anni che mi possono seguire magari sono persone anche di 40 anni ma che hanno una pelle estremamente segnata per motivi di salute o per motivi di esperienze di vita o per motivi genetici semplicemente e che magari hanno bisogno di persone di prodotti che possono andare bene ad una pelle come la mia che ne ho 52 anche se io ho una pelle che non è per niente insegnata e comunque qualche pieghetta ce l'ho e comunque è una pelle non di una trentenne ma di una 52enne quindi facendo proprio sfruttando la mia esperienza facendo e traendo spunto appunto da tutto ciò che ho imparato in quest'anno un anno e mezzo affiaccandomi alle unghie che riguarda sempre un discorso di bellezza voglio inserire al discorso trucchi e skin care in modo tale che vi possiate permettere di avere qualche consiglio in più per pelli un pochino più mature e per pelli che magari hanno qualche pieghetta in più e che comunque sono pelli straordinarie perché comunque sono frutto della vostra esperienza della vostra vita non dimentichiamocelo mai stando detto questo chiusa questa premessa proprio perché volevo far capire come mai avessi cambiato il nome del mio canale voglio cominciare in questo il mio primo video su per quanto riguarda il beauty o la skin care con questa beauty box di look fantastic e lo spunto me l'ha data me l'ha dato mia cognata che insomma lei se la fa arrivare tutti i mesi la beauty box di look fantastic perché è una beauty box mensile anzi ringrazio elisa per avermi consigliato questa cosa e quindi comincio con il mio primo video sul beauty proprio grazie a look fantastic e a queste beauty box che arriveranno ogni mese a casa mia è un abbonamento che io ho fatto voi potete farlo di un mese due mesi sei mesi anche un anno e visto che elisa mi aveva parlato molto bene look fantastic la conosco molto bene come azienda è un sito dove io ho acquistato tante cose e tanti anni fa avevo acquistato tanti prodotti per i capelli di tipo il mitchell dove che non riusciva a trovare in giro quindi alla fine riusciva a trovarli solo su look fantastic loro sono sempre stati molto puntuali una volta ho avuto un problema di consegna sono stati rigorosi nel sistemarla e nel venirmi incontro quindi veramente top mi sono quindi assolutamente fidata sia del giudizio del giudizio di elisa che dell'azienda appunto di riferimento e ho quindi ho fatto l'abbonamento per un anno quindi io pago 15 euro 50 mensili e ogni mese mi arriverà questa beauty box e quindi mi sono appena arrivate entrambe sia quella di novembre quella di dicembre quindi farò una prima parte di video dedicata alla beauty box di novembre e una seconda parte dedicata alla beauty box di dicembre quindi sono un pochino in ritardo cercherò di essere più e di anticipare i tempi il più possibile ma non è colpa mia perché mi sono arrivate veramente due giorni fa e io ho acceso questo fino a questo questa tipologia di pagamento con look fantastic e in a fine di novembre quindi loro sono stati tra l'altro anche molto gentili nel farmi avere la beauty box di novembre cosa che era ormai scaduto il termine invece me l'hanno mandata lo stesso e in più mi ha mandato ovviamente quella di dicembre questa all'interno di queste beauty box c'è un po di tutto non ci sono solo prodotti dedicati a pelli mature a pelle a persone che hanno 45 50 anni non mi interessa però perché qui ci saranno più video che farò dedicati ad esempio al fondotinta che va bene per pelli come la mia ci saranno ci saranno video che saranno dedicati ai illuminanti ai blush agli ombretti e insomma vi darò tanti consigli che ho proprio studiato sulla mia pelle e cercando di essere più chiara possibile sperando di farvi un enorme favore quindi dicevo che nelle beauty box di look fantastic ci sono cose ci sono sei prodotti medievolette solitamente ci sono sei prodotti sempre di tante varietà che possono essere legati al trucco che possono essere ci possono essere dei tools per il discorso del trucco quindi come pennelli come strumenti eccetera e ci sono prodotti che possono essere riguardanti la skin care io ho ottenuto appunto le beauty box in tonse mi sono solo documentata sui prodotti che ci sono all'interno perché volevo darvi il prezzo di ogni singolo prodotto se voi lo acquistaste singolarmente in modo da capire se i 15 euro e 50 spesi all'interno del mese spesi per questa beauty box possono essere validi oppure no e direi invece che il gioco ne va alla candela quindi vedete la scatolina che è veramente carina da morire cioè sono tutte scatoline in cartone pesante rigido in questo caso quella di novembre è bordeaux con tutti i riporti in arancione viene consegnata sempre all'interno con appunto la brochure e leaflet dove all'interno ci sono i prodotti che sono presenti nella beauty box in modo che io sia riuscita appunto a verificare anche il prezzo di acquisto singolo e quindi vedete che poi vi danno anche c'è anche praticamente ci sono i vari consigli su come utilizzarli che cosa che come utilizzarli quante volte è veramente fatta è una cosa carina via e qui ci sono i prodotti appunto all'interno della nostra beauty box ma veniamo a noi cominciamo a spoilerare un pochino insieme quello che c'è all'interno della beauty box quindi partiamo apriamo la nostra beauty box ecco qua allora i prodotti sono 1 2 3 4 5 6 3 3 6 sono sei infatti allora il primo prodotto che mi viene sotto mano è il perfect lex skin miracle della this works questo prodotto qui è un prodotto che serve per il massaggio delle gambe ed è un tinted multivitamin quindi è un multivitaminico ma è anche leggermente tinteggiato quindi serve praticamente probabilmente solo d'estate quando potete metterlo all'interno del spalmarvelo sulle proprie sulle gambe perché è leggermente vediamo un attimo perché vedete che è chiuso e infatti eccolo qua vedete che la tinta è un pochino vediamo un po com'è adesso parte che uscito un po d'olio nella confezione eccolo qua vedete che vi dà un po una sorta di abbronzatura della pelle come morbido buono anche il profumo è molto gustoso sì direi che non è un proprio un prodotto tipicamente autunnale da novembre dicembre ma è più un discorso estivo una volta che si vuole avere la gamba un pochino più abbronzata si mette appunto questo cover infatti si dice si chiama proprio cover skin imperfection che viene praticamente allenire le imperfazioni durante il periodo estivo quando siamo ancora con le gambe completamente bianche e questo è uno dei primi prodotti poi abbiamo il pure color di philip kingsley è praticamente un è un gloss per i capelli colorati quindi lo si dà sui capelli una volta che si fa la piega tipo un gel è molto morbido sembra quasi un olio se vedete come un to quasi adesso me lo metto io un po sui capelli qua così vediamo di di metterlo qui tipo brillantina così faccio un po di un po di alla gris mi sento un po denizuco visto che adesso anche i capelli corti a scusate il perfect lex questo è in versione da 30 ml se volete acquistare da 120 ml che praticamente il prodotto classico di vendita viene a costare 42 euro e 95 fate voi più o meno circa la proporzione su un 30 ml questo invece è un 20 ml e verrebbe 12 euro e 45 il 75 ml quindi la versione grande poi tra l'altro tutte queste piccole confezioni sono molto simpatiche perché magari se uno va in vacanza se uno va anche quando va al mare ad esempio se li mette in borsa se li metti in baligia tengono pochissimo posto e sono molto e sono molto utili quindi questo è semplicemente un gel per capelli pure color perché va benissimo secondo me da quello che posso capire io per capelli anche colorati quindi poi abbiamo questa che è la della polar è un'azienda che ho già sentito e ne ho sentito parare molto bene un acqua micellare al cotone artico sentiamo insieme che profumo che ha adesso sento il profumo io poi ve lo dico non ha profumazione buona questa ah esatto tra l'altro c'è scritto anche qua senza praticamente profumazione perfetto al cotone artico ovviamente per uno struccaggio acqua micellare questa non ho trovato la versione piccolina avevo solo trovato la versione grande e sinceramente non mi ricordo adesso il costo non mi ricordo se veniva sui 17 euro però non vorrei dire delle stupidate quindi prendetela insomma così un po come viene quindi acqua micellare sempre valida abbiamo una matita per della lord and berry è una matita si chiama questa è la doré eye pencil la 230 vi dico anche questa qua che verrebbe 12 euro 84 bella sguoccio qui sono tutta piena di guardate bella questa per le feste potrebbe essere interessante per fare una riga d'eyeliner per per fare poi dopo anche una piccola sfumatura con degli ombretti per farmi infracegliare questo è interessante quindi della lord and berry ci abbiamo anche questa matitina qua che la doré è della 230 come numero e versione questa era piccolina versione grande comunque verrebbe a costare 12 euro 84 poi sempre all'interno di questa beauty box abbiamo l'anna della nao bay anche questa azienda io ne sento parlare molto bene perché fa tutti i prodotti naturali e vegan ed è praticamente la detox un polluted è una crema praticamente ossigenante per il viso per sì per il viso una crema leggera leggera a base di ossigeno e contro praticamente detox contro l'inquinamento questa è la versione da 50 ml quindi direi che questa qui che io l'ho guardata praticamente sul sito viene a costare 22 euro solo questa crema qua bellino anche il fatto che abbia vedete questo tappo questo in in legno io sento sempre il profumo delle cose perché mi sono un po un po fissata per sentire il profumo non che mi dia fastidio a me non interessa che non abbia fragranza alcuni prodotti possono avere dei profumazioni che mi possono anche dar fastidio però sinceramente anche se hanno qualche profumazione non mi danno fastidio non è che voglio assolutamente proti senza profumazione però sono un po fissata questa crema qui a base di aloe vera di tè verde di ginkgo biloba di raspberry e di jojoba olio di jojoba di mandorle dolci olio di mandorle dolci e e uva credo sia esatto comunque interessante vi darò un feedback su questa crema la proverò interessante comunque sembra una crema da 50 ml poi abbiamo un una cosina che a me interessa veramente poco perché voi sapete che facendo unghie mi interessa veramente poco comunque della be your incredible self della nails and inch questo smalto rosso quasi un rosso arancio il numero questo qua non ha numero che comunque non so dove trovare il numero comunque si chiama va bene vi do il nome si chiama portan portland square ed è uno smalto classico normale che io me ne farò ben in poco magari lo regalarò mia mamma perché tanto non non mi interessa comunque averlo nella mia collezione perché utilizzo tutt'altra cosa quindi ragazze fondamentalmente la beauty box di novembre è stata interessante perché se facciamo la somma di tutti i prodottini che abbiamo trovato all'interno direi che ne è valso assolutamente la pena spendere i 15 euro e a parte questo prodottino qua che posso utilizzarlo praticamente in estate ma gli altri prodottini e questo qua vabbè ma per un caso io perché faccio unghie ma se io non facessi unghie fosse semplicemente una makeup artist mi andrebbe bene anche lo smalto per le unghie quindi direi che ne valsa abbastanza la pena tra l'altro c'è anche una acqua micellare da portare in vacanza per struccarci perché la boccettina è piccolina e è una crema per il giorno leggera che secondo me può fare solo è una crema leggera quindi anche se questa qui secondo me va bene per un discorso più più estivo piuttosto che invernale e questa ragazzi è la nostra beauty box di novembre io spero che il video vi sia stato utile e qualsiasi commento lasciatemelo giù sotto il video io rispondo al più breve tempo possibile se avete qualche dubbio o perplessità e se non l'avete ancora fatto lasciatemi un pollice in su per supporto e soprattutto iscrivetevi al mio canale cliccando sulla campanella così sarete sempre aggiornati su tutti i video che io posterò su youtube e seguitemi sul mio profilo instagram lì posterò se solo esclusivamente un discorso di unghie a salvo vedremo in un domani che cosa mi servirà il futuro ma comunque sia seguitemi anche lì vi lascio qui in sovraimpressione il mio riferimento detto questo mi sembra di avervi detto tutto quindi ci sarà una nuova un nuovo canale diciamo una nuova un nuovo percorso all'interno del mio canale e sono molto contenta di di farlo insieme a voi per darvi tutti i miei consigli anche condividere con voi le mie esperienze anche di trucco che io sto facendo in questi in questo che ho fatto in quest'ultimo anno e mezzo e vi mando un grande bacio e vi aspetto al prossimo video buona giornata a tutti